ciao raga fischia nuovo acquisto ciao px px compratosi tutto smontato con un motore completo nuovo e c'è tra 500 km c'è ancora la targhettina attaccata non ti preoccupare tanto si vede anche se non si vede ma lì si vede ciao px motore nuovo un altro motore è qui dentro tutto smontato però non manca nulla qui abbiamo un vogliatore pedanina che questo è uno degli ultimi modelli perché c'ha la vite dietro e la mascherina davanti è stato smontato perché doveva essere riverniciato ma a me di riverniciarlo sinceramente non me ne frega una beata b quindi nulla preso questo motorino intero con libretti librettino originale ora mi divertirò a rimontarlo tutto pedale originali attenzione motore perfetto mai aperto ripeto sopra 500 chilometri il motore di poi abbiamo il faro i seggiolini due marmitte abbiamo mozza variatore con due variatori ce n'erano due qui eccolo insomma da un po di pezzi di ricambio due variatori vediamo questo il collettore degli speed engine che me ne fu di questo qui c'è un 13 pari come si può vedere il nuovo di zecca si vede anche dai filtro il nuovo di zecca va bene lo specchietto originale piaggio da negli occhi due ruote nuove nuove perché sono state comprate per rimontare lì però insomma state questo progetto ne manda a buon fine ora nulla io pulisco i cerchi revisione in mozzo e rimonto rimonto che tutto e questo qui e lo vendo e lo vendo perché sennò cipolla o lezione comunque vedrete che non lo vendono puliscono l'avo che manopoli sul sud dice questo basta pulirlo intanto che fa una scarrellata la bandina lì non la sistemo ma la cambio perché tanto sono quelli di modello nuovo quindi queste si trovano e la rivernizio bianca che fa una scarrellata di più una spugnina lì non la siccome è un po' di più ecco allora sarò indeciso se farlo lasciarlo così senza vabbè verniciarlo lascio così proprio mantenuto metti o i cerchi bianchi o metti i cerchi neri non lo so secondo me è più bellino con cerchi neri va bene comunque questo come dico basta una spugnina non è ricromato ma almeno è pulito e luccica in confronto a quest'altro da qua poi ci vuole le spugnine bravo è questa la uso solo per pulire i cilindri all'interno non si deve mettere anima e pazienza si può fare un manovrio in due minuti per fare un video già guardate come si presenta si presenta nel senso piacere sono in manovrio e te chi sei e chi sarò la fatina da capelli turchini fischio anche questa roba qui va va pulita tutta questo ormai la romatura è sparita quindi si potrà allevare quello che si può allevare comunque io ripeto che questo lo lascio così perché si dice mantenuto mantenuto originale e nulla tutti i pezzi l'avete visti tutti i pezzi l'avete visti quindi consigliatemi consigliatevi consigliatemi ma ditemi tanto poi io consiglio l'accetto per lo tanto può sempre come mi farà a me si mette i cerchi bianchi o si fa bianco che poi sarebbe l'incontrare dove le c'avevo io tanto mi erano i graffi o neri tocca a sto cerchio toccalo un po' picciosa chissà come mai o bianco cerchi neri io ho bianco cerchi viola perché io non sono un gobbo va bene tutto qui va bene tutto qui se lo fa nero ha un bianco i fari come gli ho fatto io a Fabietto che c'aveva i ciao Malossi ciao Luisa gliel'ho fatto i neri e sono molto 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 più carini va bene ragazzi e questo è tutto e non c'è da aggiungere altro c'è da aggiungere solo questo 13 fari si mette via questo collettore non se ne fa di nulla e si leva questo si mette nella scatolina ma non mi brucia Malossi però ci sei 13 pari ma i 12 10 non c'è? no va bene meno male preferisco avere un 13 pari c'erano 12.000 io di 12 10 12 pari va questa l'aveva verniciao l'aveva verniciao questo gli si dice a cosa Andrea Tavernau lo vuoi il collettore per il big boar tuo Pinasco ci metti questo ma il collettore e belle festa finita qui che ci sa ma cos'ha l'abbè l'ina forte e sta andando va ce l'hai per i bambini guarda me piccine chi se ne fa di sta maniera non ci sa ci sta smontare le bobine si può vedere sono nuove non nove nuove e il condensatore poi ci sa anche qua giù si può vedere un un fermo per lo spinotto e il che manca si monta tanto che si deve fare che macello madonna me brucia ecco il carburatore qui abbiamo un 12 pari 12 pari un tappino nero per il manubrio la ghigliottina la valvola giugetti 50 e 90 ma che leggo bene 90 si si 90 vabbè un 50 90 metti un 130 vabbè 200 comunque ci sa abbastanza materiale sa un portatarga da mettere l'adesivo qui poi c'è ricorso ma non è di questo perché qui c'è un fuori in alto se non era in alto vabbè ci sa la campana però manca la frizione manca la frizione eh si ciccio ne manca la frizione vedi ce ne quante quante se ne vuole però manca la frizione ahhh vabbè si guarderà nella scatola lì se c'è vabbè ragazzi un salutone un abbraccio a tutti io questo lo voglio portare insieme agli altri genuglielini anzi mi ci metto ora e lo monto ciao raga